Siamo a chiedere all'assessore del Tenno se si rende cosciente delle problematiche che ci sono state sulla tratta Bergamo-Milano negli ultimi mesi e il peggioramento netto del servizio in termini di pulizia di numero adeguato di carrozze che già erano poche prima, adesso sono state addirittura ridotte, in situazioni come quella di ieri sera dove addirittura una era anche spenta quindi non c'era neanche l'aria condizionata o durante l'estate ci sono persone che sono svenute ed è dovuta intervenire l'ambulanza e una questione relativa anche ai ritardi e alle informazioni in merito ai ritardi. Io ho qua numerosi articoli di giornale e cito e porto la voce dei pendolari in quest'aula, quindi quando mai arriveremo ad un treno decente tra Bergamo e Milano, solita mattina da treno merci e una ragazza ha perso i sensi, bassa rischio tagli per i treni, nuovi disagi per i pendolari, sono tutti di mesi diversi, abbiamo addirittura delle immagini con delle deiezioni umane all'interno delle carrozze, quindi siamo in una situazione che non è vergognosa, di più qua stiamo calpestando la dignità di persone che pagano un servizio, pagano delle tasse per avere un servizio e in più pagano il servizio che tra l'altro dal primo di settembre è aumentato e si vedono delle condizioni peggiorative di giorno in giorno, ci sono state promesse, c'è stato anche un IQT della consigliera Saita nei mesi scorsi, c'è stata una risposta molto vaga da parte dell'assessore, noi siamo a chiedere che si riprendano delle condizioni minime e dignitose immediatamente su queste tratte e successivamente siamo anche a chiedere con puntualità di avere una risposta in merito alla destinazione dei 62 nuovi treni che sono stati annunciati due martedì fa dallo stesso assessore durante una conferenza stampa con il Presidente Maroni. Quindi noi anche stamattina abbiamo visto che sono state tagliate delle carrozze, abbiamo numerose persone che sono intervenute e che si lamentano del treno delle 7.16 che ha prodato a Lambrate con 20 minuti di ritardo, le 5 carrozze che sono sporche, erano 8, sono state ridotte a 5, quindi siamo in una condizione vergognosa e chiedo che sia ripristinato il servizio. Grazie. Le criticità relative al trasporto ferroviario, in particolare le diverse linee ferroviarie del bacino di Bergamo e del nodo di Treviglio, sono l'attenzione quotidiana delle competenti strutture di Trenord e rete ferrovia italiana. Sono numerose le sollecitazioni da parte dell'assessorato, mi limito alle sollecitazioni, ma le riunioni e gli appuntamenti per affrontare le problematiche sono all'ordine del giorno. Affinché si presti attenzione al servizio e si intervenga in maniera tempestiva nella risoluzione di criticità su una delle tratte più frequentate della Regione. Ciascun soggetto, per i processi di propria competenza, sta mettendo in campo specificazioni volte al recupero della puntualità e affidabilità del servizio, proprio come da me richiesto nel corso delle ultime cabine di regia, non ultima quella della settimana scorsa. Per quanto riguarda Trenord, l'azienda sta predisponendo un piano di rimodulazione programmata dell'offerta in funzione degli eventi che si verificano. Inoltre, Trenord insieme ad RFI sta curando le partenze dei treni pomeridiani ed alcuni treni particolarmente critici, in quanto il loro malfunzionamento o ritardo inevitabilmente crea disagi molto pesanti sull'intera tratta e non solo. Tra le altre azioni degne di nota, l'azienda sta mettendo anche mano all'organizzazione dei turni del materiale rotabile. Tali azioni vengono condivise e monitorate in opportuni incontri periodici ai quali partecipano Trenord, RFI e Regione Lombardia. La task force puntualità della cabina di regia del tavolo strategico di Trenord. Ovviamente tutto questo al fine di ricavarne le possibili sinergie e seguirne l'efficacia. RFI ha deciso di introdurre nuovi criteri gestionali in caso di treni con forte ritardo e Trenord fornirà ad RFI una lista del materiale rotabile non conforme così come l'elenco dei degradi infrastrutturali presenti sulla linea. Trenord e RFI insieme stanno lavorando per una velocizzazione dei piazzamenti e dei ricoveri sul deposito Fiorenza e sul presenziamento degli orari di punta, oltre che alla realizzazione delle condizioni di pronto treno che riteniamo indispensabili. Infine, in vista dell'inverno, Trenord e RFI stanno mettendo a punto i piani neve. In particolare sulla situazione delle carrozze in servizio sulla linea Milano-Bergamo via Treviglio, Trenord ci ha fornito i seguenti elementi informativi. Il programma delle composizioni prevede che le 52 corse della linea vengono effettuate da 5 convogli formati da 7 vetture doppio piano climatizzate, trainate da una locomotiva 464 per complessivi 900 posti, di cui 44 in prima classe. Il prolungarsi del fermo in manutenzione di una parte delle carrozze doppio piano ha costretto Trenord ad una riduzione del numero di carrozze per convoglio. Tre convogli sono stati effettuati con 6 vetture doppio piano con 892 posti in seconda classe, i restanti due convogli invece 5 vetture doppio piano con 742 posti. Abbiamo chiesto a Trenord di fornire un piano dettagliato di rientro dei convogli che ci verrà presentato a breve. Il programma di manutenzione e pulizia di questi convogli prevede una sosta manutentiva ogni 5 giorni, effettuato tra le 9 e le 16 di pomeriggio, con soste a Milano-Piazza Garibaldi dalle 10 alle 14, Milano-Centrale dalle 10 alle 13 e le soste notturne tre a Bergamo, una a Alessandria e una a Fiorenza. Sono inoltre state predisposte alcune azioni per utilizzare al meglio il materiale a disposizione in termini sia di assegnazione di materiale che rispetto al piano di pulizia. In particolare, consigliere, mi sono fatto dare concretamente delle date in modo che anche lei mi aiuterà a verificarne. In particolare, da venerdì 26 ottobre è stato predisposto un piano per garantire giornalmente la massima composizione al treno 2604, quello che lei di prima citava delle 7.02 che è Bergamo, quello che passa del mattino. e i corrispondenti della punta della sera. A partire da lunedì prossimo il treno 2606 verrà messo in esercizio con sei carrozze. Fra due settimane invece, cioè il tempo di recuperare appunto come dicevo poc'anzi la montazione straordinaria e i treni, fra due settimane tornerà a sei carrozze anche il 10 ottobre. Da lunedì 28.10 è stata eliminata la sosta notturna a Milano Centrale con invio del treno 2642, vuoto a Fiorenza per pulizia radicale straordinaria e l'impianto successivo invio il giorno dopo per il treno 2601 e 2604 e successivi. Le ditte di pulizia sono state sollecitate finché prestino la massima attenzione alla qualità degli interventi. In relazione alle criticità legate alla presenza di persone senza fissa dimora sui treni sia a Milano Centrale che a Bergamo, si sottolinea che Trenord dal 2012 sostiene il progetto Terre di Mezzo insieme alle istituzioni locali, quindi Comune, Caritas e tutte le associazioni no profit e ovviamente alla prefettura. Un progetto che ha portato importanti risultati sul territorio, come senz'altro voi saprete. Per quanto riguarda infine il materiale rotabile in servizio sulle linee, sono in corso opportuni approfondimenti tra le strutture tecniche della mia dirigenza infrastrutture e mobilità e l'impresa ferroviaria per la definizione di un piano di utilizzo del materiale rotabile per linea. Il piano dovrà individuare le esigenze delle 60 linee del SFR e redistribuire i treni e le carrozze della flotta Trenord su ciascuna linea appunto del SFR, assegnandovi la tipologia di materiale rotabile più adatto e tenendo conto dei seguenti fattori. Uno, la prestazione tecnica del tipo di servizio, due, la prestazione tecnica funzionale dell'infrastruttura, tre, capacità di trasporto richiesta, quattro, servizi accessori richiesti, quindi trasporto bici, accessibilità e così via. In questo piano di restribuzione che comprende i 62 nuovi treni, anche le linee ferroviarie oggetto dell'interrogazione potranno trovare pertanto nuove e adeguate risposte. L'introduzione di nuovi treni porterà a un abbassamento dell'età media del materiale rotabile a 18 anni. I convogli più vecchi verranno eliminati con conseguenze del miglioramento del servizio dell'intero territorio. Grazie.